50 giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la festa della Torah, la festa della Legge, lo Spirito Santo discende sugli Apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo. Siamo ancora in questo ritmo che vede nell'Evangelo di Giovanni il risorto presentarsi ogni otto giorni nella sua comunità, mostrando loro le mani e il fianco. Dopo otto giorni Gesù stette in mezzo, anistemi, stare in piedi, istemi, proprio stare, stare in mezzo. Ogni otto giorni Gesù mostra alla sua comunità le sue piaghe, mostra i segni della sua passione, mostra i segni della sua fragilità, mostra i segni della sua tortura. Ogni otto giorni ancora compare nella sua comunità e mostrando queste piaghe si rivela come risorto ed entra a porte chiuse, in particolare non indifferente. Questo significa che il corpo di Gesù non è più un corpo materiale, non è più un corpo fatto di atomi, ma è un corpo diverso, differente, capace anche di attraversare ciò che la materia tenta di respingere. E qual è la reazione dei discepoli? Stranamente magari potrebbero pensare, come altre volte abbiamo visto nel Vangelo, di vedere un fantasma, potrebbero rimanere terrorizzati, oppure addirittura vedendo quelle piaghe, quelle ferite, potrebbero impaurirsi, potrebbero essere presi da sdegno anche per la situazione. Invece no, il verbo greco è ekaresan, cioè gioirono dal di dentro, gioirono profondamente. Perché gioiscono profondamente? Gioiscono profondamente perché fanno questa azione spirituale che tutti quanti noi siamo chiamati a fare, collegano e uniscono il Gesù di Nazareth della storia, al Cristo risorto e dicono, ma guarda, quello stesso Cristo che era con noi, che ha profetizzato, che ha parlato, che ha mangiato con noi, che è vissuto con noi, che è stato inchiodato in croce, è lo stesso Cristo risorto. Questo significa che l'uomo morto appeso alla croce è diventato il Signore della morte e il Signore della vita. Questa operazione, operazione, è un'operazione che siamo chiamati a fare tutti noi cristiani, perché vedete, a volte tendiamo a separare Gesù, quasi esclusivamente un uomo, un grande profeta, oppure un uomo spirituale, divinizzato, il Figlio di Dio. No, la logica della fede ci chiama a compiere questo atto di fede tutti i giorni. Il Cristo uomo di Nazareth è il Cristo Signore della storia, così vicino al nostro dolore, ma così anche vincitore della nostra sofferenza. Detto questo, soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo. Il verbo greco che è utilizzato nel Vaggiore di Giovanni è emfusau, significa soffiare dal di dentro. Bellissimo questo verbo, non è tanto prendete, ricevete, ma quanto Dio stesso che soffia da dentro lo Spirito. Quasi plasticamente potrebbe significare una respirazione bocca a bocca per rianimare una persona, no? E in realtà non è proprio così, è lo Spirito che soffia dal di dentro per ridare la vita. Quindi non è che si poggia su di loro, ma li riempie, nel senso che non è un ventilatore lo Spirito Santo che soffia alita, vento dappertutto, no? Invece li riempie dal di dentro. Questo emfusau ricorda il verbo della rua, no? Nell'Antico Testamento in Genesi 2, quando Dio compone Adamo e soffia nelle sue radici l'alito della vita, soffia nelle sue narici, nel suo naso l'alito della vita. È bello come a volte noi per sentire la vita di una persona, no? Ne ascoltiamo il respiro, no? Pensate quando ci avviciniamo a una persona affannata, a una persona moribonda o una persona che sta semplicemente dormendo, sentiamo il respiro e ne condividiamo l'aria. Allora l'aria che cos'è? È la vita. Che cosa insuffla Gesù nei suoi discepoli? La vita nuova. La vita nuova che come in Genesi 2 crea cose nuove. Allora noi ogni volta che riceviamo lo Spirito Santo dentro di noi si crea qualcosa di nuovo, si rinnova qualcosa che era una novità che precedentemente non c'era. E che cosa? Era quello stesso Spirito che all'inizio in Genesi 1 della creazione alitava sul caos e che poi che fece rimise le cose così a posto da renderlo cosmos. È l'azione cosmetica dello Spirito Santo. Ecco che cosa fa lo Spirito Santo alla fine dei conti. Ci fa diventare più belli e realizza dentro di noi una vita bella, cioè ci fa assomigliare a Cristo e ci fa dire, pensare con la nostra mente, col nostro cuore, tutto ciò che è brutto, tutto ciò che è caotico, tutto ciò che è da evitare, tutto ciò che ci distrugge, tutto ciò che ci bruttifica. A tutti coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete i peccati non saranno perdonati. È il dono dello Spirito nel grande sacramento della penitenza, della riconciliazione. Non ci si può confessare da soli, ma solo per l'intermediazione di un ministro che fa sì che lo Spirito Santo discenda su di noi e crei la bellezza interiore ed esteriore, liberandoci dal peccato. Perché sì, ogni volta che noi ci liberiamo dal peccato ci ritorna anche il sorriso fisico nella nostra vita. Ma questo dono di liberarci dal peccato non è affidato soltanto ai ministri nel sacramento della riconciliazione, è un dono che Dio affida a tutti. Tutti quanti nella Pentecoste dobbiamo diventare ministri della liberazione del peccato. Dobbiamo far sì che il peccato possa essere eliminato dalla nostra vita, dalla vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, dal mondo in cui lavoriamo, dalle nostre famiglie. Sì, tutti quanti possiamo essere ministri di questa liberazione dal peccato, in maniera tale che più peccato cancelliamo dalla faccia della terra, più la faccia della terra diventerà bella come la faccia e il volto di Dio. Buona Pentecoste a tutti!